Ciao a tutti, terzo aggiornamento di Zena Week. Ci stiamo avvicinando all'autunno ma gli appuntamenti sono ancora molti in questo caldissimo settembre. Explora Tour sabato 26 settembre vi farà vivere un'avventura avvincente dal titolo Genova in Nero alla scoperta di una Genova oscura e misteriosa con i suoi carucci dalle tante tante storie appassionanti. Per la prima volta il Museo del Louvre viene presentato in un documentario realizzato appositamente per le sale cinematografiche di 60 paesi del mondo. Dal 21 al 23 settembre nelle multisale UC Cinemas verrà presentato una notte al Louvre Leonardo da Vinci per ammirare le opere più belle di Leonardo passeggiando nella cornice spettacolare del Louvre. Il Parco dell'Aveto vi aspetta per un fine settimana dense di appuntamenti interessanti. Si parte sabato 19 con le escursioni e la ricerca dei branchi di cavalli selvaggi. Domenica 20 settembre con la festa dell'agricoltura e dei prodotti tipici per riscoprire i sabori di una volta e le tradizioni antiche. Domenica 20 settembre con la festa dell'agricoltura e dei prodotti tipici Jimenez de Redia, il grande scultore costaricano, trasforma Genova nello scenario per le sue scultore che arrederanno il paesaggio urbano della città a partire dal 16 settembre 2020 dalla stazione di Brignole al Porto Antico passando per Piazza Matteotti, Palazzo Ducale e Piazza di Ferrari. Per la settimana europea della mobilità la FIAB Genova organizza eventi dal 16 al 22 settembre per promuovere la mobilità sostenibile a zero emissioni. Seguite tutti gli eventi cliccando sul nostro link e troverete tutte le info. Programma di settembre di Enjoy Genova. Domenica 20 una passeggiata tra le strade antiche, un percorso urbano fuori dal tempo in direzione della città eterna. Domenica 27 invece un altro percorso ma questa volta artistico per conoscere i capolavori architettonici nello stile Coppedè. Siete aspiranti attori? Martedì 11 e giovedì 24 la Scuola di Recitazione e Comunicazione Liguria Attori vi offre due occasioni per provare gratuitamente il corso di recitazione La Valigia dell'attore. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Info sul nostro link. Ogni ultimo weekend del mese a Chiavari invia a Rivarola il mercatino dei sapori e delle tradizioni. Un'interessante occasione per scoprire e conoscere tantissimi prodotti delle nostre regioni. Ultimo mese per visitare Super, la mostra dedicata a Bruno Bozzetto visitabile a Gianova Nervi presso la Galleria d'Arte Moderna in via Capolungo 3 fino al 20 settembre 2020. Se vi piace il nostro format potete iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook di Zenazone e condividerlo il più possibile sui vostri social per far conoscere tutte le iniziative di intrattenimento. Vi ricordo che se volete segnalare un evento potete scrivere un'email a info-lazenazone.it ricordatevi però di inviarci il materiale con un po' di anticipo in modo che possiamo inserirlo nel primo aggiornamento utile.